La biosfera è uno dei temi caldi di questa estate, soprattutto ora che è tornata di moda la notizia che vedrà quest'ultima spostarsi da Piazza del Popolo, facendo così fantasticare i pesaresi sulla futura possibile collocazione e sul destino che riguarderà quest'ultima. Per quanto riguarda la biosfera, voglio ricordare che quando è stata posizionata, da subito la Presidente dell'Amministrazione aveva dichiarato che sarebbe rimasta in Piazza del Popolo per tutto il 2024, ma che poi sarebbe stato opportuno individuare una nuova sede dove poterla collocare. Quindi dal mese di settembre, ottobre, cercheremo di capire quello che sarà il luogo più adatto, anche perché tenerla in piazza non è opportuno per tutta una serie di motivi, innanzitutto perché c'è stata già da un anno, ma poi cercheremo appunto di individuare nuovi spazi. Tra i nuovi spazi che cercheremo di capire dove metterla, cercheremo ovviamente di non metterla sotto le case delle persone, perché ovviamente la biosfera quando è accesa c'è la musica e quindi può creare disturbo alle persone che vivono nelle proprie abitazioni, e quindi cercheremo di metterla lontano dalle abitazioni con l'obiettivo di posizionarla o in un parco o in un giardino pubblico, o in uno spazio molto frequentato, potrebbe essere un'idea anche quella fuori della stazione del treno, oppure andare a posizionarla in uno dei chiostri, dei cortili interni che abbiamo nel centro storico. Qualcuno ha proposto anche di portarla in zona mare, quindi diciamo che attualmente ci sono molte soluzioni che stiamo prendendo in considerazione. Abbiamo visto anche ieri sui giornali che ci sono state attività commerciali che chiedono di non spostarla, quindi evidentemente ha portato come attrattiva sia turismo ma anche curiosi. Comunque il fine della biosfera è stato quello anche di dare un messaggio forte sia per i turisti o comunque chiunque veniva nella nostra città, che Pesaro rimane anche al passo con tutto ciò che è l'innovazione tecnologica. La biosfera oltre ad essere il luogo che rappresenta Pesaro capitale della cultura, si è voluto dare anche un'educazione ambientale perché vediamo nelle tre visioni che le persone possono vedere parliamo anche dell'ambiente, quindi un altro tema importante. Abbiamo unito la transizione ecologica e la transizione digitale e di questo noi come politica che abbiamo lanciato l'idea progettuale dal sindaco precedente, possiamo dire che l'obiettivo è stato raggiunto anche perché abbiamo visto sempre tante persone nella piazza che si sono recate appunto per vedere la biosfera. Per quanto riguarda lo spostamento era una cosa che avevamo detto dall'inizio, anche perché il progetto è un progetto che nasce per Pesaro capitale della cultura e tutti sappiamo che ha un anno di durata Pesaro capitale della cultura e quindi poi anche la biosfera verrà spostata. Con il sindaco mi sono confrontata in questi giorni, si è parlato di tanti luoghi della città, ma comunque voglio dire che questo progetto non è la Francesca Frenquellucci che ha avuto coraggio di uscire sui giornali e di dire la verità di come stavano le cose, è un progetto che è stato fatto con una squadra, con una squadra dove c'era l'assessore Vimini, dove c'era chiaramente il sindaco e tutta la giunta e insieme abbiamo portato avanti questa idea progettuale. L'assessore a Pesarese torna poi sul tema dei finanziamenti che hanno riguardato la biosfera, chiarendo nuovamente la situazione. Per quanto riguarda i soldi del bando, sono 11 milioni e 300 mila euro. Ritorno a dire e a ribadire, perché in questi mesi, l'abbiamo detto più volte, sono soldi che non possono essere messi in altri fondi o in altri capitoli di spesa. Sono soldi che devono andare in tutto ciò che è la trasformazione tecnologica e l'innovazione digitale. Quindi non possiamo sistemare asili, non possiamo sistemare le buche delle strade, ma soprattutto se non vengono utilizzati, che è un bando vinto, questi soldi ritornano indietro, ritornano nelle casse del Ministero che poi verranno messi o dati ad altre città.